E signori bentornati in un nuovissimo video del signor ferro, oggi siamo qua con bestiaforte, la skin rara che passò il provino ancora molto tempo fa facendo un record assurdo di kg, ovvero 32 E signori siamo qua per un motivo, perchè finalmente ha attivato la cam ma sulle mani, quindi signori terrà un handcam, intanto bestiaforte tu ci sei giusto? Certo, sempre cari Ok, si, mi da molto fastidio questa cosa che non ci hai già voluto spoilerarci la faccia, ragazzi io volevo vedere la sua faccia ma mi ha detto una cosa, ovvero Se dovessi ripassare il provino, perchè io ovviamente non lo vedo da un sacco, raga saranno 6 mesi che non lo vedo, quindi dobbiamo ritestarlo e lui mi ha detto Se dovessi ripassare il provino e questo video dovesse raggiungere i 10.000 like, quindi raga dovete iniziare a droppare like adesso, mostrerò la faccia Quindi raga, io non posso dire nient'altro che iniziate a droppare un like Vi ricordo codice ferro nei negozi oggetti per il massimo, massimissimo, incredibile supporto E sapete che più termini aggiungo meglio è, però voi ricordatevi di inserirlo Vi chiedo anche scusa ragazzi al volo, se sto portando un po' meno contenuti raga ma ho un po' di problemini di goal e di altro Quindi datemi un'ultima settimana per rimettermi al 100% e poi fidatevi, non ve ne pentirete, ci sono un sacco di nuovi progetti fighissimi sul canale non Quindi attendete E raga, basta, bestia forte, dobbiamo pushare perchè se vuoi passare il provino dobbiamo raggiungere 10 kill più la vittoria in questa partita Già ci stanno 50 persone in lobby Oh, io non dico più nient'altro, portami alla win, oggi sei tu il pro player e voglio soprattutto vedere come giochi la tua handcam E in più la faccia appena sbloccheremo, ecco diciamo, questa possibilità di vederla Va bene, va bene, ci sto Let's go Allora, ci stanno persone davanti in teoria, sì sì sì, eccola, eccola A sinistra distesa, porca paletta l'ho già visto Tu sei messo bene? Discretamente Ok, io completamente no e soprattutto non gioco da un sacco Gli ho fatto un 23 raga a culo in realtà Raga ve lo giuro, mi sembra un abbetto Cioè non so più giocare raga, assurda sta cosa Ok, allora se dovesse aver bisogno non chiamarmi perché non penso di essere all'altezza di darti una mano Sinceramente anche per graga Siamo livelli molto alti comunque Questa cosa non mi piace, ce ne troveremo un sacco di pro player Ok, stanno qua davanti eh Ah no, questo è addirittura un bot Ok, vabbè, killato il bot Allora, io ho visto tipo due o tre team Perché sono spariti tutti? Dove stanno? Eh, secondo me stanno giù Tutti sotto dici? Ok, possibile in realtà Ah, guarda dove è il boss Guarda a sinistra Ah, ma questo è un player Oh, porca paletta No, no, no Due player da me Il boss è un player Tranquillo, per Bravo, bravo, bravissimo Da me, da me, da me Prendo questo Se mi permetti Ok Buono, 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 buono Prendo pure questo Ok, let's go Siamo messi troppo bene Cioè letteralmente siamo messi troppo bene Non possiamo morire eh Ci dovrebbe stare un player qua a qualche parte Ok, anche qua ci sta l'ultima guardia Mamma mia ragazzi ve lo giuro che non ci giocavo da un sacco a porta Niente, sono stra mega incasinato Non capisco nulla C'è uno sulle zipline? Sì, l'ho sentito come Stanno qua sotto eh Guarda, occhio questi, sembrano bravi Ok, ci pusha? Ok, gli ho fatto abbastanza male In realtà gli ho tolto soltanto 50 No, 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 no Ok Di nuovo 29 a 1 Bravo No way, ho finito i mazzi Questo è un grande problema raga Vieni sotto con me se riesci Vieni sotto con me a bestia ti prego Morto uno Tranquillo Morto uno Come tranquillo? Hai uno di vita? Morti due, tranquillo Mamma mia Let's get it signori Ok, questa mi è piaciuta Vieni da me Curiamoci con sto coso che ci dà la vita entrambi Ma soprattutto Tu lo sai che comunque hai rischiato non poco E io ti ricordo che un tuo grande problema Era che pushavi troppo Quindi per favore Cerca di stare indietro Perché questo provino è molto importante per te Se dovessi perdere questo non ti do un'altra possibilità Hai una sola possibilità, ok? Va bene, va bene Quindi, allora Io ve lo dico Persone qua non ne vedo E questa cosa mi piace in realtà ragazzi Un momento di tregua per il povero ferro Che non capisce più nulla ragazzi Non giocando troppo tempo Hai un colpo cecco per caso? Certo, ne ho ben 9 di 10 colpi cecco Ti ringrazio E nulla Se vediamo persione Diamogli una bella sistemata Ma ci abbiamo la carta vero? Dobbiamo andare al bunker? Sì Ah, io me l'ho pure dimenticato di sta cosa Incredibile GG per ferro raga Che ribadisco raga Sono pure diventato Goku Guardate i miei capelli Non capisco Ferro, devi aprire il bunker però Eh, grande problema Non c'ho io la scheda L'hai presa te? Ah, e niente Andate GG signori Vestia forte Vedi che ce l'avevi te Brutto infame Eh, mi sono dimenticato Allora, io ti dico soltanto una cosa Lootiamo e ripusciamo Perché abbiamo soltanto Cioè, hai soltanto 3 kg Sto ancora a 0 Questa cosa non mi piace proprio per nulla Se vogliamo passare il provino Cioè, se vuoi passare il provino Io sono già nel team Devi velocizzarti ecco E non poco Perché siamo abbastanza indietro a livello di kill Ok Comunque, loot ce l'hai carino? Dai, sì, per forza Abbiamo preso il bunker I dati rimessi Puscia diretti Senza paura Sì, let's go Ferro, gente davanti Verso nord-est Ok, non li ho visti Non so come hai fatto a vederli Anche perché ci stava un ponte davanti Siccome è tipo usi l'hainbot Eh, pochi di falca Comunque, dove stanno precisamente? Eh, dietro Ecco, ecco Forse li ho visti Li ho visti, li ho visti, guardi là in fondo Guarda, guarda com'è Ok, dai È il momento Signori, il king dello sniper Dopo tanto tempo Let's go Oh mio dio, signori 200 metri Praticamente 179 È bellesco, signori Prima persona chilata Ce ne dovrebbe stare un altro Non è Cioè, è andato solamente a terra? Sì, è andato a terra Ciò significa che c'è resta uno qua Quale c'è spuglio? Fermi No, era una rana? Ah, era un rospo GG Oh Cioè, ragazzi Ho scambiato un rospo per un player Questa cosa non mi è mai successa Ve lo giuro Direi che si nota che ferro, ragazzi È un pochettino arrugginito Eh, ma è giusto Giusto poco, poco Vedo una bella pit fight Dove? A nord Andiamo Ok, brother Ma me lo chiedi pure Ma ovvio che dobbiamo andare Andiamo, diamogli una bella sistemata a tutti Let's go E altra cosa io vi ricordo, signori Codice ferro Sempre per sempre Nelle gazzoggetti Per il massimo supporto Grazie mille gang È il momento di dare una bella sistemata a tutti No Sarebbe stato molto epico come colpo, eh L'ho messato di davvero un pelo Brother, ma spacca tutto Guarda Spacca là, spacca là Fatto cadere No, no, no Non ti attaccare Ok Sono caduti Hanno preso un sacco di danno Bisogna pushare Bravissimo Bravissimo Stai qua sotto però l'altro Occhio Prendo il medaglione intanto Come ha fatto a vittare me Non lo so Oh, ucciso Oh mio dio Ma brother Ma quanto siamo più forti Quanto siamo più forti, raga Let's go Io sono messo benissimo Hai bisogno di qualcosa, te? No Ok Eh, a posto, raga Che altro devo dire? Cioè, pushiamo Pushiamo e pushiamo, raga Fermo 6 kill 16 persone rimaste Ce la facciamo arrivare alle 20 bombe, eh? No È impossibile Dobbiamo pushare tutti Dobbiamo pushare tutti Brother, vai Inizia a correre Allora, se dovessi Ok, davanti a noi ci sta un altro Ci sta un altro qualcosa Come si chiama? Con il medaglione, esatto Occhio però a non morirci Perché se ci moriamo Siamo dei polli Perché abbiamo il loot della vita È la partita della vita E soprattutto tu hai un solo tentativo, eh Sappi che se per sbaglio Dovessi morire Oh, ecco, 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 vero Oh mio dio Occhio, occhio Ci hanno visto, vero? Eh, sì Ok No Oh, mamma mia, ho rischiato, eh Devo provare a sniperarlo Prima che ci sniperi lui No way, per poco Allora Li vogliamo pushare questi? Sì, certo Oh mio dio Ok, sono molto bravi, eh Oh, finalmente Fermo Sì, questi qua la saranno di brutto Te lo dico io Ho uno di vita Ma porca paletta, ragazzi Questi sono fortissimi Bestia da me, da me, da me GG, mi ha preso tutto Bestia, bestia, bestia No way Raga, non ci credo Sono morto come un pollo Allora, posso dirti una cosa? Scappa Scappa e prendi la scheda Ricordati che hai un solo tentativo E l'obiettivo No, 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 brother Scappa, ti prego Bestia, fidati Sono fortissimi e sono in due Devi scappare e riuscire a Ok, non mi ascolti, vero? No, no, no Brother, ti prego Devi riuscire a sopravvivere Se ci muori da questi Abbiamo Cioè, fine Fine del video È andata la cosa Inizio a star zitto Tanto ho capito che qua tu te vuoi pushare Non posso dirti nulla Ok Occhio che non facciano cadere Bravo GG Questi sono davvero forti Occhio Copriti dietro, copriti dietro Ok Bravo Schedozza sotto Vai, 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 vai Bravo Comunque questi mi hanno ripensato Prendi l'impulso Ok, no Fan del reboot Qua, fidati Raga, grave Cioè, eravamo messi benissimo Non so come abbiamo fatto meglio Cioè, allora Io sono molto fuori forma, eh Però Non ho scuse, raga Cioè, sono morto, punto stop No, grande problema C'hai pure un team dietro, brother C'è pure un team for i safe Che sta venendo a prenderti No, 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 no Grave Tu hai i medaglioni, vero? Eh, sì No Sai che secondo me qua Non ti converebbe proprio Rebuttare Guarda che ti stanno pushando Guarda No, no, no Vinda, per favore, dietro Guarda la minima Ti stanno pushando Ok Hai un minuto e dieci per volare A ributtarmi al van che ti ho pingato Velocissimo devi andare Ok Signori Dovremmo riuscire a farcela, brother Mi rebutti Devo andare per forza a trovare del lutto Comunque prenderlo in generale E rimettermi in sesso, raga Perché se no Sta partita non la vinceremo mai E soprattutto Io ti ricordo che dobbiamo arrivare a dieci kill E ne sia Cioè, siamo solamente a sei Facciamo abbastanza schifo, bestia Ecco Cioè, con io in questo momento Che non gioco da una vita Facciamo abbastanza schifo Ti faccio vedere io adesso Let's go Questo proprio volevo sentire Ok Ho appena avviato una taglia E in tutto questo Tu dove stai, bestia? Perché non sei vicino a me? Ma come stai fightando? Non fightare, brother Ma tu capisci che stai fightando Quelli con la taglia da solo? Non puoi morire Cioè, se mi muori Per sto provino Io te lo dico, eh Non te lo consiglio Vieni da me piuttosto E camperiamocelo un attimo Devo rimettermi a posto Ne ho uno qua davanti Che mi sta dando veramente fastidio Ok Io ribadisco Ma perché non te ne vai via? Per favore Bestia? De me? Eh, ti ho appena detto una cosa Ti ho detto di andare via Non mi rispondi Non vuoi proprio ascoltarmi tu, eh Ok, no Ci stai morendo però, eh No Bestia, bestia Posso dirti che sei un pollo? Te lo posso dire che sei un pollo enorme? Io adesso devo prendertela per forza La tua scheda Se no ci muoio Ci credo, raga Perché non parli? Bestia, cosa sta succedendo? Non capisco Non lo so, beh Ok, vabbè Tranquillo Senti, ti vado a prendere il loot La scheda E poi ci do una bella sistemata questi Qua si stanno demolendo, raga Ma nessun problema Perché ho la scheda di bestia Devo andarti a buttare qua davanti È l'ultima zona Grande problema Ora tu avrai il loot del cavolo Però, cioè, capisci che Non mi hai ascoltato Cioè, una volta che mi dovevi ascoltare Ok, comunque Reboot veloci, raga E ci mancano 4 kill E 8 persone 6 avversari Cioè, dobbiamo fare tanto ancora Cioè, forse è più difficile adesso Che prima Prima eravamo messi benissimo Un po' di kill Potevamo fare Adesso siamo messi malissimo Quindi Triardiamo Che non poco, bestia Davvero Dobbiamo triardare tantissimo Raga, voi vi ricordo Like, iscrizione E codice ferro Per supportarci al massimo In questo endgame E sì, ne abbiamo tanto bisogno, raga Tantissimo Ok, mi hanno visto, eh Mi hanno visto C'è chinato uno Let's go Ok, buono, buono, buono Questo ci voleva Peccato che non è morto subito Comunque, andiamocene via L'importante ribadisco È arrivare verso l'endgame, raga Cioè, questi qua Sono anche molto più forti di noi E pusharli proprio non ha senso Allora, riftino tattico Il grande problema è che Non hai mazzo neanche te, vero? Eh, no Non tanti Eh, esatto Siamo messi No, no, te lo giuro Ve lo dire Siamo messi male Dobbiamo resistere a sta situazione Resistiamo a sta situazione Non dico che siamo ad un passo dalla vittoria Ma siamo messi sicuramente molto meglio di prima Ok, è il momento Prendi un riftino Perfetto, bravo Andiamo più lontano possibile da questi Questi qua hanno tutti i medaglioni Sono troppo più forti di noi Devi riprendere anche l'isola Perché tanto Un medikit Me lo salvo Ok Vedi te Sappi che se non trovi un medikit Sei morto E questa cosa Significherebbe lasciarmi un'altra volta da sole Non deve succedere, bestia Ok, bravo, bravo, bravo Allora, io invece ho trovato un flop Quindi ottimo E... Ma sai che onestamente Io l'unica cosa della quale ho bisogno Sono i mazze Quindi mi sa che io inizio a farmare Perché letteralmente del resto c'ho tutto Ok, brother Quattro persone rimaste Dovremmo pusharli tutti, lo sai? Se no io ti avviso Tre persone rimaste Raga, è impossibile arrivare alle dieci kill Cos'è sta cosa? Allora, bestia A me dispiace dirtelo Ma i like Se dovessimo vincere Si dimezzeranno E andranno a cinquemila E non diecimila Eh, per mostrare la faccia Per forza, brother Perché qua non stiamo rispettando le regole Questa cosa non mi piace per nulla Quindi il provino ormai non è passato Avevi comunque fatto 32 kill Quindi per me vali Ma cinquemila like per mostrare la faccia Raga, ora tocca a voi Sei ancora fuori safe, per caso? Si, sto arrivando proprio in questo momento Ok, ti conviene anche perché Non è che sei messo troppo bene di vita, onestamente C'hai il medica ancora? Si, tranquillo No, no Ok, buono, buono Vedi i nemici per caso te che sei in alto? No Zero totale Raga, ma dove stanno gli ultimi? Scusate, stanno tre player oltre a noi Ma vi giuro che non ho idea di dove siano Ok, ecco lì Guarda il medaglione nella mia mappa Stanno qua davanti sopra la montagna Eh, occhio Sto arrivando Ok, sai cosa ti dico? Ne devo provare a sniperare uno Devo per forza provare a sniper Ma hanno sniperato loro GG, ragazzi Ma io non ho parole comunque Cioè, letteralmente questo non l'avevo mai visto Occhio, brother Non dobbiamo farci sniperare Che poi oltre a questo, raga Cioè, in tutto questo Oltre a questo team Ce ne sta un altro ancora Quindi spiegatemi un po' voi sta cosa Cioè Ti giuro che, raga, è una partita stranissima questa Eh, ok, fermi Allora, ce ne sta uno là sopra E uno a sinistra Oh, porca Paletta Oh, no What? Ah, stanno due a sinistra Stanno due là sopra Fermo che lo sai, però Dai, esponiti un attimo Che qua ricordo essere io Il king dei cecchini No way No way Ma hanno fatto air show di nuovo Ma io non ho parole, raga Ma questi sono troppo forti Ok, bestia È il tuo momento Devi brillare Dimostraci la tua potenza No way, raga Ma questi quanti erano forti, scusa Vabbè, ragazzi Vi posso dire la mia? Come mini ritorno ci sta Io ribadisco Non sono ancora il mio potenziale massimo Bestia oggi Ma è un po' deluso, eh Secondo me è bisogno di Ancora un po' di allenamento Per ripassare il provino E raga Io vi ricordo Like, iscrizione Codice ferro Poi ribadisco che la settimana prossima Settiverà operativi al 100% Con un sacco di nuovi progetti sul canale Quindi, detto questo Ci vediamo in un prossimo video Bella rega Grazie a tutti